Ciao a tutti, oggi prepareremo la fonduta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono fontina taglia da pezzetti, latte intero, tuorli d'uovo e pepe nero. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo il latte nella fontina. La lasciamo riposare per almeno 4 ore. Trascorso il tempo, mettere nel boccale la fontina con il latte ed azionare il bimbi per 13 minuti, 80 gradi, velocità 1. Azionare il bimbi per 8 minuti, 80 gradi, velocità 2. Dal foro del coperchio aggiungere i tuorli e il pepe. Grazie. 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 la fonduta è pronta trasferire in una terrena e servire con pane tostato crostini o polenta fonduta grazie e alla prossima ricetta grazie per la visione